ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube la gag iniziale che avete visto serviva per farvi conoscere farvi capire già in anticipo di cosa parleremo oggi di uno smartphone ragged quindi indistruttibile con una funzione particolare il nome di questo smartphone infatti è un le fondo cioè il prodotto il produttore e poi modello armor 20 vt vt sta per walkie talkie ed effettivamente è un telefonino ragged indicato per tutte quelle situazioni nelle quali non si vuole o non si può telefonare immaginate un cantiere immaginate un'escursione in una grotta dove non c'è campo non c'è possibilità di telefonare abbiamo la possibilità di utilizzare il walkie talkie per poter comunicare lo stesso quando si fa un viaggio con amici ci si allontana leggermente si fa un escursione che sia anche nella natura e si può comunicare con facilità basta premere questo tastino e tra l'altro si può utilizzare pure con i walkie talkie classici quindi non per forza con un telefonino dello stesso tipo basta premere questo tasto e dall'altra parte ora ovviamente c'è un po di ritorno ma si può utilizzare sia premendo questo tasto nel caso in cui ci sia lo schermo bloccato oppure premendo quest'icona ma ve lo faccio vedere direttamente da vicino vi faccio vedere tutto quello che viene dato in notazione vi faccio vedere le varie caratteristiche non voglio fare una cosa molto approfondita voglio farvi vedere esattamente come questo telefonino secondo me vi conquisterà se avete bisogno di queste caratteristiche vi lascerò anche il link giù nel primo commento nella descrizione per poterlo comprare non vi parlo di prezzo ma ve lo scrivo giù perché i prezzi vanno cambiando poi si guarda il video fra 6 7 mesi il prezzo sarà diverso e quindi non ha senso quindi giù link per vedere il prezzo eventualmente codice di sconto ora guardiamolo insieme al suo fratello e vediamo come funziona e allora guardiamo sia le scatole che il telefonino quindi il prodotto in questione gli accessori che vengono dati in dotazione eccetera ma partiamo dal telefonino allora innanzitutto come vedete questo non la cover è questo sì perché nonostante sia un telefonino indistruttibile abbiamo la possibilità di proteggerlo con una cover e nella stessa cover possiamo montare degli accessori come questa clip è proprio perché essendo un telefonino che ha la funzione walkie talkie nel caso in cui siamo in un cantiere siamo in un escursione possiamo metterla nella spallina del nostro zaino eccetera e quindi con una mano semplicemente premere questo tasto laterale per comunicare senza doverlo sbloccare e dover comporre il numero della persona con cui vogliamo comunicare si può orientare a piacimento a dei bei click sonori molto decisi quindi possiamo posizionarlo come vogliamo abbiamo anche ovviamente le sagomature per le fotocamere eccetera da qua si vede poi il logo ve lo faccio rivedere montato quindi come vedete abbiamo la possibilità di usufruire comunque del flash e la fotocamera il logo e questo dovrebbe essere il microfono l'incastro è semplicissimo basta premere per poterlo invece disincastrare basta sollevare questa linguetta e si sfila con facilità invece da questa parte abbiamo questa placchetta metallica in alluminio e sotto la stessa troveremo l'alloggiamento per le due sim oppure per espandere la memoria per quanto riguarda la fotocamera ne abbiamo una sola nel 2023 diciamo è un po anomalo però in realtà come fotocamera funziona bene ho fatto diverse prove ho fatto alcuni test sia per quanto riguarda le fotografie che per quanto riguarda i video e obiettivamente nonostante siano 50 megapixel che non sono pochissimi però le fotografie vengono bene i video non hanno un audio meraviglioso però comunque vengono bene funziona bene decentemente nulla di eccezionale ma lo vedrete ora comunque dal video che vi farò vedere questa è la confezione della custodia troviamo anche questo accessorio quindi il moschetto con il poterlo eventualmente appendere da qualche parte anche per esempio nel passante dei pantaloni si incastra si fa scorrere fino alla sommità e quindi possiamo poi rimuoverlo semplicemente sollevando questa parte e facendolo scorrere in questa guida c'è anche quest'altro accessorio le serve per l'automobile quindi semplicemente un supporto avventosa ancora non l'ho utilizzato volevo aprirlo con voi quindi abbiamo la possibilità di allentare sollevarlo per orientarlo con l'angolazione che preferiamo in base a come viene montato da questa parte possiamo estenderlo e poi il classico snodo quindi si stringe da questa parte e qua si inserisce all'interno della custodia che vi ho fatto vedere poco fa quindi si incastra in questo modo e si orienta in base a come ci serve guardiamo ora la confezione del telefono allora all'interno troviamo come sempre manualistica eccetera guardiamo però per bene tutto quello che troviamo quindi un display di ricambio manuali questi sono due tappini adesso vi spiegherò cosa servono guardiamo anche quindi la protezione del display tutto fatto benissimo un lefon cura tantissimo tutti i dettagli dei suoi prodotti nella parte più bassa troviamo questo rivestimento in plastica serve a proteggere il telefonino durante il trasporto due piccoli cacciaviti un caricabatterie e anche un cavo anche questo un bel cavo per poterlo ricaricare il caricabatterie in questione è il classico carica batterie da presa carica batteria rapido con uscita usb di tipo c e questi piccoli cacciaviti che trovano all'interno a cosa serviranno mai servono uno per poter montare e smontare il tappino che abbiamo visto poco fa quindi questo si svita l'antenna nel caso in cui non si voglia utilizzare la funzione di walkie talkie si mette questo tappino e si può avvitare scusatemi ogni tanto premo involontariamente alla funzione di walkie talkie allora in questo modo avvitiamo il tappino certo che c'è vita è un po piccolo però svolge la sua funzione solo che essendo piccolo può lasciare un po il segno sulla plastica eventualmente utilizzate le uno che abbiano in taglio un pochettino più grande rimuoviamolo e vi faccio vedere l'innesto dell'antenna che un innesto standard quindi si può utilizzare con qualunque altra antenna anche quella degli autoveicoli come vedete classico innesto da antenna ora diamo un'occhiata pure all'applicazione che riguarda il funzionamento del walkie talkie io non sono un esperto quindi non posso parlarvi in modo tecnico di queste funzioni però ve le farò vedere allora innanzitutto si può personalizzare anche con una fotografia poi su setting abbiamo qualche funzione riguardante per esempio il tono ppt start tone and tone record eccetera e poi qua abbiamo la possibilità di andare a scorrere sui canali che si possono anche cambiare tranquillamente cliccando da questa parte e mi è successo pure di sentire qualche voce di qualcuno che dialogava e quindi per poter comunicare basta semplicemente premere il tastino che vi ho fatto vedere poco fa per poter dialogare allora io ho fatto delle prove in casa ho fatto delle prove da fuori casa verso dentro funziona benissimo allontanandomi ad una distanza approssimativa di 6 700 metri funzionava ho fatto la prova con mia moglie mi ha detto che mi sentiva e non mi sentiva benissimo non so se per via delle dei palazzi che c'erano attorno eccetera però devo essere in giro ho fatto solo una prova molto rapida quindi su questo non posso esprimermi però il produttore dichiara una distanza se non sbaglio di otto chilometri ora comunque guarderemo sul sito del venditore e a proposito voglio anche impostare la lettura dell'impronta digitale perché ancora non l'ho fatto e del riconoscimento facciale davanti a voi aggiungiamo quindi un'impronta digitale basta semplicemente appoggiare da questa parte il dito verrà riconosciuta l'impronta digitale e quindi aggiunta per poterlo sbloccare quindi quando vogliamo sbloccare il nostro telefono dobbiamo semplicemente appoggiare da questa parte come tutti i telefonini android o comunque telefonini che hanno la funzione di impronta digitale ok quindi andiamo su fine adesso blocchiamo sblocchiamo semplicemente appoggiando come vedete è immediato funziona su tutti i dati che sto facendo immediatamente si sblocca quindi l'impronta funziona perfettamente adesso facciamo lo sblocco con il volto mi inquadro riconosciuto lo blocco ovviamente adesso il mio volto è coperto quindi doveva inclinarlo leggermente però dovrei riuscire come avete visto immediatamente facciamo un'altra prova ok immediatamente mi inquadra e si sblocca quindi funziona anche per quanto riguarda questa funzione adesso vediamo pure la funzione del tasto smart abbiamo la possibilità di personalizzare questo tastino ppt e farlo diventare anche un tastino smart quindi come vedete abbiamo la possibilità di avere con clic singolo mio solitamente non attivo nulla doppio clic invece apre youtube pressione prolungata invece non l'ho modificato ma serve per walkie talkie quindi non lo modifico però facciamo un doppio clic e come vedete si apre in automatico youtube a che siamo su youtube guardiamo pure come si comporta con la navigazione e allora per guardare youtube ho cambiato telefonino perché giusto che vi faccio vedere entrambi vi faccio vedere le prestazioni di tutte le due telefoni che sono praticamente le stesse allora proviamo a riprodurre questi brani come vede dura tre ore e cinque minuti vi faccio sentire l'audio di questo telefono anche andando avanti velocemente recupera subito subito il buffering allora si sente bene c'è sempre un po di suono leggermente ovattato perché questi telefonini essendo impermeabili hanno una membrana che impedisce che il telefono possa danneggiarsi con l'acqua e quindi purtroppo c'è questo audio un pochettino attutito anzi quando va sott'acqua perché potete emergerlo tranquillamente in acqua dolce ma nel caso in cui comunque entri dell'acqua dove ci sono le membrane degli altoparlanti bisogna soffiare anche semplicemente avvicinando la bocca per rimuovere l'acqua e si infiltra altrimenti per i primi minuti non sentirete praticamente nulla ora vi faccio vedere pure la riproduzione di un video che ho registrato anzi che registrato mia figlia mentre stavo guidando per farvi vedere come si stabilizza come si sente l'audio ve lo anticipo non è proprio eccezionale riproducendolo dallo stesso telefono e pure dei video che ho fatto per farvi vedere la risoluzione quindi inquadrandovi da vicino quindi andiamo nella galleria e guardiamo allora innanzitutto ho fotografato anche dei soldi per farvi vedere i dettagli che guardate come si vedono bene quindi una fotocamera da 50 megapixel però che ha una buona risoluzione allora avendo utilizzato entrambi i telefonini sinceramente non ricordavano in quale fossero le fotografie comunque questa è una foto scattato in un boschetto come vedete riusciamo a vedere anche i dettagli più piccoli riesce a mettere a fuoco bene però se esageriamo con lo zoom si perde qualche dettaglio effettivamente ovviamente comunque è uno zoom un po estremo sono delle foglioline lontane però per quanto riguarda la risoluzione a me piace una fotografia di tutto rispetto e 50 megapixel nulla di estremamente straordinario però riesce a fare delle belle foto andiamo ancora avanti fatto più di una fotografia ho fatto anche un video per farvi vedere sia la stabilizzazione che come passa dalle zone luminose alle zone in ombra con facilità regolando automaticamente l'esposizione quindi come avete visto è passato dalla zona molto luminosa del cielo poi inquadro verso il basso vedete l'esposizione come si corregge molto rapidamente ok osservate comunque vari dettagli vedete un po scattoso come video sicuramente non è fluidissimo però dettagli si vedono bene poi qua ho fatto un video che mi farò semplicemente sentire e vedere questo è un video registrato con la telecamera frontale a passare a radio così potete sentire l'audio potete vedere come si vede tutti i dettagli fotocamera frontale adesso passiamo alla fotocamera principale questo è invece la fotocamera principale quindi stesso tipo di video solo che adesso non mi vedo quindi non so come mi sto riprendendo però anche in questo caso potete vedere i dettagli tutti i particolari e valutare si vede bene oppure no e vedere anche l'audio quindi se c'è differenza con nell'altra foto poi ho fatto pure la fotografia sempre foto selfie e questa dovrebbe essere la fotocamera principale sì perché è abbastanza definita come vedete tutti i dettagli anche degli occhiali i baffi i pori della pelle si vede tutto quindi fotocamera principale e questa dovrebbe essere quella per i selfie o viceversa comunque guardate si vedono così bene tutte e due che no forse questa qua è la fotocamera principale l'altra no comunque si vedono così bene che non riesco a capire effettivamente quale sia la fotocamera principale quale no questa è un sintomo un buon segno poi ho fatto un video per esempio in questo caso in macchina anche se il secondo tentativo perché avevamo già fatto quest'altro video solo che poi mia figlia ha messo il dito davanti all'obiettivo quindi vabbè facciamo vi faccio vedere quest'altro tanto serve solamente per capire come riprendere le situazioni nella quale all'interno della macchina c'è poca luce in esterno invece c'è tantissima luce quindi come si comporta il telefonino passando da un'inquadratura verso la strada e poi ritornando all'interno dell'abitacolo potete sentire la voce e tutto il resto allora questo invece un video appositamente per farvi vedere come riprende il telefono con lo sfondo luminoso essendo io in ombra ora mia figlia che saluta mi prenderà la strada per vedere come passa dalla zona luminosa alla zona ombreggiata quindi voi vi valuterete io non sto vedendo e vi renderete conto anche in questo caso come si sente l'audio ok quindi avete visto anche come si vede il video anche se in realtà riprendendo un altro display la qualità sicuramente non è buona perché si perdono tanti dettagli ma anche ascoltando l'audio che esce da un microfono da un altro parlante entra in un microfono poi dovete riprodurlo voi a vostra volta dal vostro microfono e quindi sicuramente la qualità non è il massimo rispetto a quella che in realtà potrebbe essere che già vi anticipo non è eccezionale perché comunque sono dispositivi che hanno tutte queste membrane quindi l'audio perde un pochino però per quanto riguarda la qualità del telefonino in generale ma anche per quanto riguarda l'aspetto estetico la finitura dei dettagli eccetera guardate con questa finitura effetto fibre di carbonio tutto fatto molto bene queste parti rinforzate ovviamente quando c'è l'antenna se cade un urta direttamente sull'antenna non so quanto possa resistere anche se comunque l'innesto è molto solido però è sempre una parte delicata poi abbiamo anche la finitura dei tasti molto curata insomma uleford cura benissimo tutti i dettagli dei propri telefonini vi ho fatto conoscere già almeno tre o quattro dispositivi di questa azienda tutti i perfetti tutti i soddisfacenti questo in particolare a questa funzione del walkie talkie che devo riconoscere in alcune situazioni è davvero fondamentale diamo velocemente anche un'occhiata alle caratteristiche vecchie quindi la funzione di walkie talkie di cui vi ho parlato poco fa la ricarica rapida 33 batte un processore elio g99 display full hd da 5,65 pollici 12 giga di ram che poi sommati agli 8 giga virtuali arrivano a 20 di giga 256 giga di memoria di archiviazione espandibile fino a 2 terabyte come sempre essendo un telefonino raggede quindi indistruttibile waterproof resiste gli urti eccetera quindi diversi sistemi diversi certificazioni anche militare p68 e p69k una batteria da 10.850 milliampere ora una fotocamera frontale a 16 megapixel android 12 per quanto riguarda il sistema operativo insomma tutte le funzioni più importanti le abbiamo già viste vediamo qua se dichiara una distanza per quanto riguarda il walkie talkie e allora sì non so se è riuscito a vedere ma dichiara in spazio aperto quindi per esempio a mare da 7 fino a 10 chilometri invece in area urbana da 3 a 5 chilometri e mezzo al traffico da 500 metri a 3 chilometri come vi dicevo io l'ho provato in un ambiente urbano e in alcuni momenti come vi ho detto poco fa effettivamente non si sentiva benissimo ma ero a circa 600 metri e c'erano diversi ostacoli e allora ragazzi quindi falco ha raggiunto base vi ha fatto vedere le caratteristiche di questo telefonino ma la sua particolarità è proprio quella di funzionare come walkie talkie essendo un telefonino indistruttibile che può essere sfruttato in tantissime circostanze dal cantiere all'escursione alla gita a tantissime altre situazioni quindi se pensate che un telefonino di questo tipo possa fare per voi andate a dare un'occhiata giù nel link se trovate il codice di sconto ancora meglio vi aspetto quindi giù anche nei commenti per farmi sapere cosa ve ne sembra e vi aspetto anche a tutti i miei prossimi video non però senza avervi invitato prima ad iscrivervi quindi cliccando anche sulla campanella per attivare notifiche e cliccare anche sul pollice ciao da riccardo ea presto